Sono le 13 e 4 del 31 gennaio 2024, ci troviamo a Maglione e Marzi, sono arrivati in bici. Comune Maglione e Marzi, tomba di Perseo, monumento sepolclare di epoca romana sull'antica via Valeria. Qui è scritto anche in lingua Macedonia, Macedonia. Osserviamo qui la tomba di Perseo. Facciamoci un giro, torno torno, vedete? Prendiamo un po' un attimo qui. Guardate la tomba di Perseo. Beh, guardiamo anche la base. Questa è la base. Bella la tomba di Perseo, ma questa è ancora più giù. Questa è quando c'è più di 2000 anni. E quindi va ancora sotto. Questo, con gli anni, con il terremoto, si è staccato. Sì. E prosegue anche lì, guardate. Andiamo qui. Si può salire anche qui. Si sale qui. E si sale sulla cima. Ecco qui. Bella la tomba di Perseo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.